Faisal Time Quindi come ne sembra questo fantastico concept store? Direi fantastico, veramente lo sta dicendo appunto anche lei e lo sottolineo intanto di una creatività incredibile, poi innovativo guardando i materiali poi tutta questa gomma interpretata in tutti i modi questa parete pazzesca di stivali gialli in merito del creativo nostro Antonio Gallo che ha curato tutto, bravissimo e devo dire c'è un negozio proprio che ti invita ad entrare quindi insomma è importante questo, che in qualche modo ti coinvolga nell'entrata poi chiaramente oggi c'è molta gente quindi non si è potuto proprio, come dire, gustare nei particolari ma insomma lo faremo sicuramente Cosa comprerebbe? Complimenti proprio a chi l'ha creato, bravissimi Cosa comprerebbe nel negozio? Prima di cosa gli stivali di tutti i colori perché li adoro, già li ho e li riprendo quindi questo sicuramente poi tutta la parte tecnologica degli impermeabili così bellissimi sicuramente questo Grazie mille Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi